Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Voce ai nostri rivali, è con me oggi per lo spazio udinese, diciamo così, il buon caro Davide, grazie ad aver accettato l'invito. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Niente, presentati un po' ai miei follower o a chi ti conosce. Faccio proprio la presentazione standard, ciao, sono Davide Marchiol, giornalista da sei anni che ha avuto la pessima idea di fare questo mestiere. Lavoro per tutto il mercato web come inviato su Udinese e Venezia e negli ultimi anni ho deciso di sbarcare anche su YouTube per dare intanzitutto un servizio in più ai tifosi Udinese e Venezia, visto che in pochi parlano di queste due realtà, in particolare appunto qua in questo video parleremo di Udinese, e in secondo luogo un po' alla volta credo secondo me che certe piattaforme come YouTube siano comunque il futuro anche dell'informazione, quindi la vedo come un'opportunità, l'ho vista come un'opportunità dell'espansione e da qui come avete visto ho iniziato ad essere anche da molte parti, infatti ringrazio nuovamente per questo invito per l'invista di Udinese Atalanta. Puoi chiamarmi Matteo se vuoi, se non vuoi chiamarmi Monte, fai come vuoi, è uguale. Ammetto che ho avuto il dubbio, se chiamarti Matteo e Monte ho preferito non chiamarti proprio così. Infatti l'ho capito, l'ho capito. Va bene, allora Davide, cosa mi dici di questo inizio stagione super sorprendente dell'Udinese, insomma? Allora, sicuramente è stato un qualcosa che è andato oltre qualunque e qualsiasi aspettativa anche dei più ottimisti, cioè è inutile che ci giriamo intorno, è un qualcosa che nessuno poteva neanche lontanamente aspettarsi. Per quanto comunque Sottile avesse un'ottima base su cui lavorare, perché trattenere giocatori come Beccava d'Eurofeu è un segnale importante, che comunque l'Udinese sperava quantomeno di fare una stagione dignitosa rispetto magari alle ultime, dove la salvezza, se tralasciamo proprio l'ultimissima con Cioffi, dove la salvezza è arrivata nelle ultimissime giornate dopo stagioni in cui invece si andava in Europa. Probabilmente si puntava a una via di mezzo quest'anno, e Sottile invece sta esprimendo, come dire, si è adattato perfettamente fin da subito all'altezza della Serie A, nonostante sia le primissime esperienze, perché ha una rosa oggettivamente forte, ma sfruttarla come la sta sfruttando lui non è una cosa banale. Sta riuscendo con umiltà a fondere il lavoro fatto da Gotti su certi giocatori e il lavoro fatto da Cioffi, e questo ti porta a questo avvio di campionato, grazie anche a una preparazione atletica ottimale, a un avvio di campionato che oggettivamente era, come ho detto prima, è stato al di là di qualsiasi rosa aspettativa. Sì, sì, no, quello è vero, però Sottile aveva già fatto vedere ad Ascoli che non era male, e quindi vediamo adesso. A me è sempre stato simpatico l'Udinese, te lo dico non perché ci sei tu, ma è una cosa che ho detto in altri video, perché comunque a livello di... io quando ci sono le provinciali, diciamo così, che vanno bene, io sono sempre contento, a parte la Fiorentina, che non considero provinciale, e quindi dai, sono contento, ovviamente finché state dietro va bene. Credo che resterà così, francamente, in corso della stagione, non so come andrà domenica, ma sicuramente l'obiettivo dell'Udinese non è restare in quelle posizioni, adesso c'è stato questo exploit, l'obiettivo è la partita di metà sinistra, intanto, con calma andiamo. Arriviamo appunto a domenica, cosa ti aspetti dalla partita di domenica, insomma? Sarà sicuramente una partita molto interessante, perché l'Atalanta, un po' l'ho guardata, ha cambiato abbastanza stile, ha corretto un po' di problemi che Gasperina ha avuto gli anni scorsi, soprattutto per quanto riguarda la difesa, e col Verona l'Udinese ha fatto vedere che sì, ha dominato assolutamente la partita senza questi problemi, ma nel momento in cui ha degli esterni davanti a sé, più veloci magari di Pereira, penso, faccio un esempio, qualche problema può esserci. Credo che Gasperini la preparerà un po' lì, anche sulla velocità, in certi casi, e quindi sono curioso di vedere l'Udinese come reagirà, anche perché immagino che comunque col tempo i vari tecnici, se non tutti, almeno i più preparati, come Gasp, inizieranno anche a studiarsi un po' cosa ha portato sottile a questo Udinese e prepareranno le contromisure, quindi sono curioso di vedere a sua volta sottile quali contro-contromisure riuscirà a portare per gli avversari. In effetti sì, perché è un po' il problema che abbiamo avuto poi noi, perché dopo poi, una volta che capisci come gioca Gasp, tutti capivano come affrontarci. Quest'anno, che ha cambiato tutto, non capiscono più neanche loro come vediamo finché dura. Speriamo che dura, io resto ottimista, ma non troppo, perché sai, anche l'anno scorso l'Atalanta fino a gennaio sembrava che dovesse spaccare il mondo e poi è successo quello che è successo e che speriamo non si ripete. E entro nel discorso dicendoti che comunque l'Udinese negli anni scorsi, dimmi se sei d'accordo o no, smantellava spesso e volentieri la squadra, mentre quest'anno appunto, come hai detto tu, riuscendo a trattenere, o smantellava o li mandava al Watford, comunque sia, riuscendo a trattenere De Lofeo, ma anche lo stesso Beto, secondo me, e Bessao ha fatto capire che quest'anno forse vuole qualcosa di più, che poi magari è una salvezza molto più tranquilla, oppure, come la vedi questa cosa che quest'anno la dirigenza ha deciso di non svendere praticamente? Allora, diciamo che per storia comunque sì, assolutamente l'Udinese quelle due o tre cessioni pesanti le fa e quest'estate alla fine ne ha fatta una e mezza perché Udoji è ancora lì per un anno, sostanzialmente. C'è da dire una roba, diciamo che nel caso per dire di Musso, che conoscete benissimo per ovvie ragioni, o di De Paul, erano arrivati a un punto in cui o partivano o partivano. Diciamo che più che altro ho visto un problema nel ricreare un'ossatura, un'ossatura reale nell'Udinese dopo il ciclo Guidolin. Mancavano quei giocatori che stanno un po' a metà, che non hanno bisogno per forza di andare in una big e che possono maturare definitivamente ad Udine. Penso a Wallace, cioè Wallace ormai per età non può ambire a certi salti. Si è strutturato ad Udine ed è diventato un piano dell'Udinese e da lì per dire a fianco gli hai messo un love e c'è un make and go che stanno crescendo anche perché dietro hanno un mediano che gli dà più sicurezza. De Eurofeu purtroppo potenzialmente la sua parabola per le big è un po' finita. Quest'estate c'è stata qualche occasione perché con Napoli era tutto fatto oggettivamente però per dire l'anno scorso ha capito anche lui che doveva diventare un grande coludinese perché è difficile pensare a un ritorno a un Barcellona o a un Milan. Detto questo la grossa differenza con le altre udinesi è appunto che c'è questa ossatura molto importante cioè questa ossatura molto importante su cui girano i vari giovani perché oltre a Becao penso appunto come ti ho detto a Wallace ad Eurofeu e hai trovato dei piccoli fenomeni soprattutto il reparto scouting è tornato a funzionare con Bigiol con Lovridge l'anno scorso con Beto stanno tornando a funzionare un po' di cose che in quei cinque anni tra il 2014 e il 2020 si erano un po' frenate perché l'udinese non ha faticato molto di più a tirare fuori certi giocatori anche lo stesso Samozic comunque è un ottimo giocatore anche lo stesso Samozic che io gli darei più continuità comunque è un ottimo giocatore a me l'udinese piace assai come si suol dire a livello di giocatori e quindi cosa ti aspetti appunto dalla partita di domenica come pronostico come idea come pensi che vada a finire so che i pronostici non piacciono però normalmente lo facciamo a me proprio fanno abbastanza sì mi rugano abbastanza di solito faccio contenti tutti a pronostico sempre una sconfitta così siamo tutti a posto ah ok obiettivamente invece facciamo un pareggio facciamo un un salomonico 2 a 2 perché comunque non penso penso che comunque i reparti d'attacco come funzionano qualche gol lo faranno facciamo un salomonico 2 a 2 vedo qualche argomento in più forse forse nell'Atalanta diciamo che sì ripeto sono curioso di capire se sottilla pronti dei piani B nel caso in cui Gaspe indovini il suo stile di gioco quello mi incuriosisce tanto e secondo me da lì dipende il risultato e di questa Atalanta cosa mi dici cosa ne pensi cosa beh ne penso assolutamente bene ne penso assolutamente bene e trovo anche che probabilmente è un vantaggio il non avere quest'anno le coppie europee perché è un grosso vantaggio ti fa risparmiare tantissime energie secondo me poi ovviamente chi segue il mondo Atalanta da più all'interno sa cose che magari io non so però a parere mio comunque per dire già l'anno scorso che ha tolto tante energie fare il doppio impegno in vista appunto anche del campionato detto questo Gaspe si sta mostrando una certa maturità perché non sta proponendo per forza quel gioco che l'ha reso famoso adattandosi a ciò che ha per questa volta poi vediamo adesso con il ritorno di vari infortunati cosa succederà perché un duvan zapata per me resta un giocatore fondamentale inamovibile l'ho vissuto anche a Dudine già qua si vedeva che aveva dei mezzi fuori dal comune vediamo se vorrà riportare se si dimenticherà tra virgolette questo primo avvio dove ha sistemato alcune cose cambiando un po' filosofia o se invece riuscirà a fordere le due cose facendo un gioco sempre per positivo ma con una solidità difensiva un po' più strutturata se ci dovesse riuscire io so che è da scongiuri la cosa però comunque vedo un'Atalanta che può arrivare in alto mettiamola così adesso sul generico ma può dire la sua nei piani alti tanto non si vede i gesti che sto facendo bene no vabbè speriamo speriamo vediamo vediamo io ripeto sono uno che spesso si fa prendere dall'ottimismo ma quest'anno visto l'anno scorso sono molto coi piedi di piombo molto ducauto vediamo poi c'è questa sosta nel mondiale che non non mi non mi eh lì bisogna lì bisogna capire quanti ne perderà effettivamente l'Atalanta no? non solo l'Atalanta un po' tutti penso sì no certo però si sa che la Juve probabilmente su 25 e 20 ci vanno sicuri e giocheranno bisogna vedere invece per l'Atalanta quanto verranno impiegati anche sì sì no è vero è vero che è quello e bene quindi il prossimo che te l'ho fatto ti faccio una domanda tipica di questa rubrica che è chi porteresti via l'Atalanta qual è un giocatore che vorresti nell'Udinese? eh allora la risposta banale è che io rivolrei zapata francamente per quanto io abbia Beto no però sai ho Beto uno può dire cioè gli sta bene Beto però pensare anche a te l'attacco zappata Beto è un po' è un po' pesante però io ho vissuto ho vissuto zappata ad Udine ho dei ricordi incredibili perché mi piaceva veramente tanto e Beto me lo ricorda un po' per certi aspetti è vero è vero forse forse toglierei Coop Miners eccolo è quello che volevo sentirmi dire sai perché perché tanto è più o meno l'ho fatto con tutti gli ospiti che ho avuto fino adesso e tutti hanno detto ho zappato Marinowski ho zappato Marinowski e io dico strano perché per me adesso come adesso è il nostro proprio più forte in assoluto comunque quello che ti ti sta scombinando gli equilibri si fa per dire perché non è c'è uno solo non lo fa però Coop Miners ragazzi sta facendo una stagione fuori di testa e mi stupiva che nessuno lo dicesse quindi più andiamo avanti più forse lo diranno quindi vi fa piacere Davide secondo me si vedeva già l'anno scorso da bravo giornalista si vedeva cioè si vedeva già l'anno scorso che il piede c'era c'erano anche le idee probabilmente doveva solo un po' ambientarsi adattarsi un po' alla volta sarebbe venuto fuori per forza perché il Venezia? no no ma non c'è nulla di strano TMV mi ha offerto tra virgolette questa possibilità di aprire un sito su Venezia ah ok non perché tifi Venezia allora cinque anni fa mi ha offerto questa possibilità ormai ci lavoro da cinque anni e mi sono affezionato tanto devo essere molto molto sincero perché mi sono trovato molto bene a lavorare sul Venezia e insomma c'è anche una vicinanza geografica e quindi è la mia seconda casa tra virgolette a livello sportivo mettiamola così ormai ok la possiamo mettere questa parte? certo certo va bene allora dopo qui farò un po' di tagli ti faccio un'ultima domanda visto che siamo arrivati più o meno alla fine perché sei stato veramente più veloce di Leclerc andiamo appunto a chiederti il tuo parere sugli ex udinesi che adesso sono a Bergamo insomma sì che sono sono tanti e variegati perché ne troviamo uno già in porta perché avete scelto il buon musso non mi aspettavo devo essere molto onesto certe difficoltà da parte di One perché a Dudine tranne qualche piccolo ciclo di partite ha sempre avuto prestazioni d'altissimo livello e di sbavature me ne ricordo veramente poche forse sotto certi aspetti non ha retto non mi viene a dire pressioni ma non ha retto il gioco forse che gli chiede a Gasperini o anche la preparazione perché comunque con il fatto dell'infortunio o forse anche una questione di preparazione lì bisogna essere un po' inside cioè bisogna essere più insider di me ecco nel mondo Atalanta però non mi aspettavo che ci mettesse così tanto ecco mi dicono che è migliorato un po' adesso vediamo dopo l'infortunio se riuscirà a fare quello che sa perché potenzialmente il futuro mi viene un po' da ridere a dirlo perché ha 28 anni però dovrebbe essere portiere comunque di una nazionale come quella argentina che punta punta degli obiettivi importanti di solito a livello internazionale colombiana comunque vabbè come colombiana no Zappata ah scusami no ah è faticio che cacchio ah ah Zappata e murie colombiani tutta la vita ovviamente ma loro ma loro Zappata e murie cioè allora Zappata ne abbiamo parlato prima durante il video e lo conosciamo e vabbè ma murie murie penso che da voi abbia fatto la sua migliore le sue migliori prestazioni nella storia sì ad udine ad udine ci aspettavamo che facesse le stesse cose ma aveva dei limiti a livello caratteriale e di comportamenti che primo inizialmente non gli hanno permesso di esprimersi se non quei sei mesi dove fece 11 gol e un intero girone cioè fece delle prestazioni allucinanti per poi sgonfiarsi come un palloncino evidentemente a Bergamo ha trovato adesso state avendo delle difficoltà ma inizialmente almeno ha trovato un tecnico che lo ha messo in riga gli ha permesso di esprimersi a certi livelli e almeno non dico che il paragone che si faceva con Ronaldo l'ha rispettato ma almeno non ha buttato via tutta la carriera e qualche soddisfazione se l'è tolta sì famosa la frase di Gasperini che dice Muri era un gran giocatore non so se era di Gasperini o del tecnico della Fiorentina adesso c'ho un'amnesia che ha detto è un gran giocatore finché non trova e non conosce la pasticceria della città è così bello quella è la frase tipica che non mi ricordo chi l'aveva detto adesso c'ho una cosa l'avevano beccato a Dudine spesso ma anche a Lecce mi pare a memoria a mangiare prima degli allenamenti quindi sì è evidente che sarà molto goloso di dolci sì è un peccato perché i mezzi sarebbero infiniti per quel ragazzo e di Sopì invece il Sopì il dolce di Sinfuno che avete preso quest'estate esterno oggettivamente forte non c'è nulla da dire perché al passo a gamba a estro nell'uno contro uno è fortissimo gli basterebbe aggiustare un po' la mira e forse potrebbe anche incidere sotto porta anche lui ha dei limiti caratteriali che hanno convinto l'Udinese a cederlo prima del previsto perché doveva essere lui l'esterno destro quest'estate dopo la cessione di Molina è stato insegnito come suo successore purtroppo ha avuto dei comportamenti che hanno portato l'Udinese a preferire un incasso immediato e questa cosa non la sapevo è buona per lui a livello interno no sì sto dicendo sto risentando molto sul generico ma si vedeva già in precampionato che con Sottil il rapporto non era sbocciato e quando il rapporto non sboccia e un ragazzo ha quelle qualità è evidente che c'è qualcosa fuori perché se no non si spiegherebbe tutto il precampionato nell'amichevole Sottil lo riprendeva tanto e il ragazzo sembrava un po' svagato quando veniva ripreso e faceva sempre gli stessi errori detto questo a livello tecnico è indiscutibile ed è un esterno che probabilmente se non avrà colpi di testa durante la sua esperienza a Bergamo in Champions ci può stare tranquillamente complimenti Davide perché questa è una chicca che abbiamo tenuto sul finale che non sapevo di soppì e ti ringrazio perché vedi chi conosce bene i suoi ex giocatori ci dà informazioni utili e quanto io ragazzi ringrazierei e congederei Davide che è stato gentilissimo accettare l'invito e soprattutto vi invito a seguirlo a iscriversi al suo canale che vi lascerò qua in descrizione Davide alla prossima grazie mille grazie mille a voi a voi adesso mi dà del voi non so se chiamarmi Matteo a voi a te ai tuoi senti intendevo ovviamente vai che sto facendo un po' di ironia perché se no siamo troppo seri dopo dico che siamo troppo bacchettoni va bene Davide io ti ringrazio un saluto a tutti ragazzi iscrivetevi attivate campioniamo mettete mi piace condividete come sempre commentate rispondo a tutti grazie ancora Davide e vinca il migliore diciamo così vinca il migliore o un parecino dai vediamo vediamo ciao a tutti ciao 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 ciao